Nessuna radio linea in panchina e massima concentrazione sull'obiettivo vittoria, così mister Alberti per il match del Bari contro il Novara nell'ultima di Serie B domani sera potrebbe valere l'accesso ai playoff promozione. Mancheranno Calderoni, Cepitelli e Fossati squalificati, mentre Galano e Nadarevic non sono al top per guai fisici, ma nonostante i problemi di formazione il tecnico non vuole cali proprio sul più bello. Era impensabile che noi potessimo vincere tutte le partite di Fossati, quindi ci sta, anzi secondo me non riusciamo a forzare, abbiamo fatto in dieci una buonissima partita, abbiamo dato il campo molto bene, nel secondo tempo abbiamo giocato solo in armi da campo, quindi prendiamo come sempre gli aspetti positivi, abbiamo fatto una buona gara. Intanto per la notturna di domani sera al San Nicola cresce l'attesa tra chi non vuole mancare all'appuntamento con la storia. L'asta vinta da Gianluca Paparesta e i risultati dei Biancorossi hanno messo le ali ai tifosi che per l'occasione hanno polverizzato l'ultimo record registrato con il Cittadella. Contro il Novara i biglietti finora venduti sono già 43.000 e il colpo d'occhio del San Nicola sarà certamente quello dei tempi migliori. Per l'occasione anche Punto TV ha voluto fare le cose in grande e da domani alle 14.45 partirà sulla nostra emittente Punto Football Club il nuovo format quotidiano condotto da Maxisto con ospiti in studio e tante sorprese. Una novità già battezzata dal giornalista di Mediaset Pierluigi Pardo che in un improbabile baresi ha fatto l'in bocca al lupo per la trasmissione, imitato dei Biancorossi del recente passato, del calibro di Barreto e Perrotta che con i loro selfie hanno già monopolizzato il web. Punto Football Club, tutta un'altra storia. Ciao Max, allora inizia una nuova trasmissione, Punto Football Club, in bocca al lupo, o buona fortuna, non so come si dice in televisione, vabbè, l'importante è che il messaggio sia arrivato, dai. Ma a proposito, ma quanto è bella quella curva tutta piena, come ai tempi della Serie A, ma sono sicuro che lì si arriverà presto. Boh, boh mi nasci, va, ciao ciao e sempre forza Bari. Domani fischio d'inizio di Punto Football Club alle 14.45 su Punto TV, sul canale 660 del Digitale Terrestre e in streaming sul sito Punto TV Online.it. Il fischio d'inizio di Barino Vare invece è poco più tardi alle 20.30.